E i 25 migranti di Villalina si vanno ad aggiungere gli altri 35, giunti una ventina di giorni fa, attualmente ospitati presso l'hotel Flaminia di Sarno. Anche se il Comune non è direttamente interessato nella gestione dell'ospitalità dei migranti, il sindaco Giuseppe Canfora ha fatto sapere che l'ente fornirà tutto il supporto necessario laddove ce ne fosse bisogno. Il Comune non è direttamente interessato, però certamente anche se indirettamente la questione ci interessa, non fosse altro perché Sarno è una città comunque accogliente e solidale, quindi abbiamo dato anche la nostra disponibilità, tant'è che abbiamo fatto anche una manifestazione di interesse, un avviso pubblico, nel caso in cui ci fossero cooperative sociali, famiglie, privati e pubblici, disposti ad accogliere famiglie, ad accogliere adulti, in modo tale da rendere, come dire, insomma, aggregante la parte sociale, insomma, è sempre la parte sociale che è la parte più importante. Cioè noi dobbiamo stare attenti, come dire, a non emarginare chi accogliamo, ma dobbiamo stare attenti che coloro che si accolgano diventano aggregati in una società civile. Una volta ricevuto, insomma, l'appello da parte della Prefettura, il territorio non si è fatto trovare impreparato? Beh, diciamo che con i sindaci della Valle del Sarno, dell'Agro, c'era un accordo di massima a dover ospitare per ogni comune, insomma, un numero specifico di migranti. Insomma, Sarno lo sta facendo, anche se, come dire, indirettamente, avendo la Prefettura trovato delle strutture private che accolgono. Ma, ripeto, noi abbiamo fatto una manifestazione di interesse pubblico, ci sono state anche delle risposte, nel caso che, insomma, la parte prefettizia vuole anche disporre diversamente, noi siamo pronti ad accogliere. Certo, ci sono problemi sempre di sicurezza e di ordine pubblico, questo certamente non compete al comune, compete alle forze di polizia, al commissariato, compete ai carabinieri. Ma con i quali c'è sempre un ottimo rapporto di collaborazione, di sinergia, quindi quello che spetta loro lo stanno facendo egregiamente, tant'è che ci sono state anche delle mancate identificazioni. So bene che il commissariato si sta lavorando a sodo, anche grazie all'apporto forte del questore di Salerno, che ringrazio, il dottore Enrico. Per cui, insomma, si sta lavorando bene, ecco. Grazie a tutti.